La pulizia delle spiagge ha riguardato prima quelle più frequentate. Così l'assessore Ialacqua lo scorso mercoledì rispondeva ai nostri microfoni alla domanda del perché sembrasse che la città si dividesse tra spiagge di serie A e spiagge di serie B. L'esponente e l'aggiunta Corinti ribadiva che al suo assessorato non erano arrivate segnalazioni di spiagge sporche e sollecitava il Messinese a farli conoscere se mai vi fossero zone ancora da pulire. Non si è fatta attendere la risposta dei villeggianti. In redazione sono arrivati alcuni video che riguardano il litorale di Rodia. La zona interessata dai video ematoriali realizzati dai vacanzieri riguarda la spiaggia che si trova più a sud rispetto alla piazza centrale del villaggio, quella dove non si trovano lidi. Come potete vedere dalle immagini c'è un po' di tutto. Vecchie carcasse di veicoli, grondai e parti meccaniche arrugginite. Residenti e vacanzieri in alcuni casi hanno provveduto ad accumulare i rifiuti più corposi a bordo strada e in alcune occasioni hanno richiamato l'attenzione degli operai dell'azienda di raccolta di rifiuti impegnata nell'ordinaria rimozione della spazzatura chiedendo loro di rimuovere i rifiuti. Ma non basta la buona volontà di quanti pur di trascorrere una giornata al mare in tranquillità senza il rischio di prendere il tetano, il rastrello da giardiniere in mano fanno quello che dovrebbero fare altri. Le segnalazioni sono quindi arrivate, le spiagge come si è visto alle immagini di certo non sono pulite. Non corredate da video analoghi, indicazioni arrivano anche da Santo Sabba e da alcune spiagge da Santa Margherita in Pol.